Senti più chilometri alle spalle, sento da fare L'orovocio prende il tempo, il tempo batte per noi Non c'è più chi perde o vince quando il tempo non vuole Quando la salata sale, non c'è coltare, sai che ci sarò Colombia, Nairo Quintana Senti più scherzi Non c'è più', non c'è più Grazie a tutti. 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 che è tolto Aru, tolto Nibali, non è che in Italia ce ne siano tanti. Dico semplicemente che abbiamo avuto una bellissima vittoria alla Parigi inizia con Sonny Corbrelli in una giornata da tre gente, da maltempo puro e freddo, però per il resto non stiamo fornendo delle grossissime prestazioni. Ecco Maurizio, queste tra l'altro sono le nostre immagini di Rete 8, noi siamo stati proprio ieri a San Benedetto, ringrazio Diego Martelli che ha girato tantissime immagini. Torneremo a parlare anche con contributi che volevo farti sentire relativamente a questa corsa a tappe, vado da Carmela, la seconda stagione con questa squadra, lo ripetiamo Conceria Zabri Pro Cycling Team, hai già esordito, hai già debuttato con un paio di corse, poi vedremo anche alcune immagini che gentilmente ci hai inviato di una tua corsa, intanto come si prospetta questa seconda stagione? Sì, oddio, sempre sperando più gare rispetto all'anno scorso, comunque fare anche, speriamo, il giro. Anche perché? Sì, l'anno scorso. Arriva in Abruzzo una tappa del giro, quindi insomma è importante, a Roseto. Giusto Maurizio? Sì, sì, è organizzata dalla famiglia dei padri con la supervisione dell'Abbassianetica, è padrone di casa. Sì, chiaramente Carmela, la squadra sicuramente farà il giro d'Italia, la tua squadra, no? Sì, sì, sì. Perfetto, però è prematuro per dire se ci sarà o meno, noi ce l'auguriamo con tutto il cuore. Ma parlaci di queste prime due corse, Carmela, come sei andata, come sono andata? Oddio, nella norma dai, non mi sbiancio. Adesso dovremmo vedere anche queste immagini. Intanto a livello proprio di organico la squadra è cambiata rispetto all'anno scorso, ci sono state dei volti nuovi che sono arrivate? Sì, sì, siamo più ragazze, comunque sempre l'età... Molto giovane, come la tua insomma più o meno, ricordiamo la tua età? 20. 20 anni, quindi. Ci sono comunque anche più piccole, anche però più grandi abbastanza, più 40. un po' un mix, un mix, un cocktail vincente in qualche modo. I vostri dirigenti sono contenti di come vi siete anche preparate per questa stagione? Abbastanza, sì, non si lamentano. Perfetto. Allora, poi vedremo queste immagini di Carmela, adesso vado da Antonio, Antonio Di Sante che invece è riduce da una corsa all'estero. Era lei che si staccava? Questo? No, questo non sono. Se fai rivedere le immagini, regia, se fai rivedere le immagini. No, non sono queste. Queste sono le famose immagini nostre. Ti ricordi? Scusate, sono il loro a tardi. Ah, queste sono le immagini... Sì, a me mi stacco. Quando siamo andati con Dario, Enrico e Carmela a fare un servizio... Perfetto, però noi abbiamo altre immagini soltanto con Carmela, sono brevi, saranno una trentina di secondi, poi magari il nostro Max Facilio le ritroverà. Intanto queste sono anche pertinenti perché c'è anche lei, c'è anche Carmela, c'è Maurizio, quindi c'è Enrico, e poi c'è Dario, eccolo qui, Dario Cataldo, quindi insomma, sono pertinentissime. Però volevo andare da Antonio, dicevo sei riduce da questa corsa in Croazia, l'Istian Spring Trophy. Sì. Avete anche ottenuto come GM Europa Ovini alcuni podi, vogliamo fare un riepilogo, Antonio? Allora, la corsa si svolgeva in quattro tappe... Eccola qui Carmela, eccola qui Carmela, perfetto. Allora, la corsa si svolgeva in quattro tappe, la prima era un prologo di due chilometri che si svolgeva a UMAG e non avevamo specialisti adatti per questa prova, però ci siamo difesi abbastanza bene. Il giorno dopo è arrivato il primo piazzamento dell'anno con Davide Pacchiardo, quinto posto e abbiamo centrato la prima top ten. Poi il sabato, il primo arrivo in salita di questa corsa, abbiamo centrato un'altra top ten con Antonio Parinello, che è riuscito anche a centrare la top ten nella classifica generale finale con un ottavo posto. E l'ultimo giorno abbiamo ottenuto anche un altro top ten con Matteo Rotondi in volata e un dicesimo posto. Insomma, diverse soddisfazioni a livello di team, però ci devi raccontare che per te personalmente non è stata una bella corsa perché sei incappato in diverse... però per me era una corsa dove volevo valutarmi io personalmente perché dopo la caduta che avevo avuto in Francia al Tour de la Provence ricominciavo a correre appunto in Croazia. Era un trampolino di lancio prima della settimana prossima della Coppa e Bartali dove appunto volevo valutare le mie condizioni fisiche e ho avuto risposte positive. Ok, prossimi impegni a breve c'è la Coppa e Bartali, no? Prossimi impegni a settimana prossima si avrà la settimana internazionale Coppa e Bartali che comincia il giovedì 23 e finirà domenica 26 di marzo. È una bella corsa, no? Sì, è una delle cose più importanti in Italia. Anche per noi squadre un pochettino minori, è una corsa ottima. Vi confrontate magari con squadre sicuramente anche con individualità importanti. È una corsa molto importante appunto sia dal livello mediatico che dal livello di importanza appunto della corsa stessa. E ci proverete sicuramente dall'inizio con le vostre fughe, epiche e fughe. Io ho già in mente qualcosa per questa corsa. Ah, già stai studiando qualcosa. Sto studiando qualcosa, sì, perché appunto ci tengo a far bene. Prima di tornare da Maurizio e di tornare a parlare della Tirvena. È andato fortissimo anche a Donorati che sta in fuga per parecchi chilometri. Diciamo che è stato ripreso a 10 chilometri all'arrivo da Ulissi. Esatto, esatto. Volevo tornare da Carmela perché volevo commentare insieme a lei proprio quelle immagini, le ultime che abbiamo fatto vedere, la clip breve. Mi rivolgo a Massimo Pacilli. Ecco qui, questa è che corsa è questa? È la piccola Sanremo. Ecco, la piccola Sanremo. Io appunto ho detto per lei. Una gara open. Sì, sabato scorso. Perché sabato prossimo invece ci sarà la Sanremo, la classica di primavera, insomma. Sì. Qui ti stanno dando dei consigli, cosa ti stavano dicendo? Sì. Di tenere duro, che cosa ti stavano dicendo? Sì, di quanto mancava la salita femmina. Ma qui tu eri in fuga praticamente? Sì, da solitare. Da solitare, poi però sei stata ripresa? Sì, prima della salita. Però dai, 40 chilometri di fuga. 40 chilometri di fuga, non sono pochi. La corsa, quanti chilometri erano in totale? Erano 85, 86. Per metà corsa in qualche modo sei stata da sola. Complimenti davvero. Ecco qui vediamo in tutta la sua anche forza, anche se qui magari un momentino volevi un piccolo conforto. Sì, chiedevo. Perfetto. Allora, io torno da Maurizio perché volevo farti sentire, Maurizio, un piccolo contributo di Peter Sagan, o Sagan che dir si voglia. È una clip molto breve di una cinquantina di secondi che parla e introduce in qualche modo già ovviamente l'argomento della Milano-Sanremo. Sentiamo il campione del mondo. Sono molto contento che esco da questa Tireno positivo, con la mia condizione, tutto intero, in un pezzo, che è sempre cosa positiva. E vediamo, sabato, Sanremo. E poi è l'unico arrivo che mi piace perché sono vicino a casa. Peter, ti senti uno dei favoriti? Questa pressione non sento più io. Come fai a non sentire la pressione? Eh, perché ogni gara devo essere favorito. È naturale? No, adesso mi sono già abituato ormai dopo sette anni. E questa è una breve dichiarazione proprio sulla Sanremo di Peter Sagan. Maurizio sarà sicuramente uno dei protagonisti, no? Mi auguro che sia l'unico. Perché la Sanremo è una di quelle classiche, forse l'unica, che permette proprio ai velocisti di esprimersi al massimo. Sì, però è anche accaduto che hanno vinto campioni. Sì, però i velocisti, forse è l'unica classica in cui possono dire la loro. Ma guarda, l'anno scorso la caduta di Gaviria ha compromesso l'arrivo, poi ha vinto De Marra. Praticamente Gaviria è caduto e lui, io penso che un altro corridore sarebbe caduto pure lui, è riuscito ad evitare Gaviria. Poi non si è classificato come lui voleva. Per me è il corridore super favorito perché è forte, intelligente e se lui si impegna anche nei grandi giri potrebbe fare bene. Io mi ricordo l'anno scorso la tappa della Tussir quando era in fugo con Kroisinger. Praticamente lui ha tirato, non voglio esagerare, per un centineo di chilometri. E saliva e andava in salita tranquillamente e normalmente. Questo fa capire la forza di questo corridore e le sue capacità. È uno che attrae pubblico, che attrae sponsor, che attrae media e quant'altro. È quello che il ciclismo vuole, cerca. Sono finiti i tempi purtroppo di tanti tanti anni fa quando il ciclista si presentava in televisione e faceva fatica ad esprimersi. Oggi i ciclisti sono tutti quanti connessi con internet, connessi con i cellulari, hanno cultura, si aggiornano. Lui è anche molto, nelle sue risposte, riesce ad essere anche tagliente al tempo stesso. Certo, quando oggi in quell'intervista che tu hai fatto dici io ormai ci sono abituato perché io devo vincere sempre, questo ti dà l'esatta caratura di questo corridore. Tornando un attimo al discorso della nuova caratura di questi atleti, oggi c'è stata la laurea di Manuel Quinziato che si è laureato in giurisprudenza e questo fa capire che se vuoi puoi fare sport ad alto livello e comunque darti un impegno di culto. Io quello che dico sempre agli sportivi o ai ciclisti in generale quando mi trovo a parlare con loro, che da 20 a 30 anni è un periodo della loro vita e loro hanno scelto di fare i corridori. Fare il corridore significa allenarsi, riposarsi, allenarsi e riposarsi. Poi quando finisci di correre c'è un'altra vita e puoi fare quello che vuoi perché se no non produci, non dai l'esatta dimensione di quello che tu sei. Ecco, però qui abbiamo due giovanissimi che hanno ancora avanti una carriera lunga. No, no, perché 20 anni, Carmela, quanti anni Antonio? 23. 23, quindi voglio dire, sono ancora, devo ancora sbocciare. Io infatti mi riferivo, adesso sono presenti loro, ma mi riferisco a tutti quei giovani che si avvicinano allo sport, perché è facile guadagnare X, ma è anche facile spendere X più Y. L'intelligenza sta anche a guadagnare, spendere e mettere i soldi da parte. A sapersi gestire in tutti i campi. A sapersi gestire, perché nel ciclismo ho, ti posso dire, con l'avvento World Tour ha un po' scombussolato il mondo del ciclismo, perché esiste un ciclismo top e vi posso garantire che è top, dove praticamente è difficile competere. Ti faccio un esempio banale, la nostra squadra, che è una squadra di tutto rispetto, la Nippo Vini-Fantini-De Rosa, sta facendo fatica nel correre insieme ai World Tour. L'unico corridore che si sta mettendo in luce è Alan Marangoni. Perché si sta mettendo in luce? Perché Alan Marangoni fino a novembre dell'anno scorso correva con una World Tour che è la Canyon del Trapac, e questo ti dà le esatte dimensioni di che cosa oggi è il ciclismo. Poi parleremo ancora con te della Tirreno, perché voi avete partecipato al Tirreno con risultati dal punto di vista proprio numerico, non eccezionali. No, abbiamo fatto un ottavo posto con Grosu. Avete partecipato e quindi probabilmente, anzi, sicuramente questa edizione, ma anche le altre della Tirreno Adriatico, è anche tecnicamente come qualità forse superiore ai nomi, almeno a livello di nomi del Giro d'Italia, o comunque molto simile. Quest'anno c'è stata una spartizione di campioni, che anche la Parigi inizia aveva un fior fior di campioni. Ma questa potrebbe essere anche una filosofia di fondo, chissà, del ciclismo mondiale, internazionale. Fra ASU e RCS una certa convivenza benevole si è creata anche per far fronte allo strapotere dell'USEI, perché tu sai benissimo che le corse le fanno, le grandi organizzazioni dell'USEI gestisce solamente, mette e prende soldi, ma chi effettivamente si espone al massimo sono RCS, sono lo stesso amici con tutte le corse che fa in Italia e con i gruppi Emilia. Carmela e Antonio, prima avete sentito questo Peter Sagan, campione del mondo, è anche molto simpatico nelle sue risposte, dal di fuori chiaramente, come lo giudicate, Carmela? E' un corridore comunque che, a parte la sua tecnica, la sua potenza e il fatto che sia un vincente, questo suo modo anche di porsi? Beh, alla fine sa che può dare, può fare, quindi non ha problemi anche... Anche di comunicazione in qualche modo. Antonio, tu che dici? Ah, io lo giurico con una parola solo, un fenomeno. Un fenomeno? Per tutto, per il suo modo di correre, il suo modo di stare nella vita di tutti i giorni, il suo modo di fare, anche nel suo stile. Eh sì, è uno stile di tutto suo. Particolare, unico. Anche quando adesso, magari poi lo sentiremo in un altro servizio, perché lui stava praticamente per investire una signora che stava portando il cane e stava attraversando veatamente sulle strisce pedonali, può accadere anche questo. Lui è riuscito ad evitarla, poi chiaramente le domande dei giornalisti sono state anche su questa vicenda e lui tranquillamente ha detto che la colpa è mia perché lei era sulle strisce e io non l'ho vista. Però l'ha detto in maniera ironica, insomma gli organizzatori certo non sono stati contenti di questo episodio in qualche modo che poteva anche essere e avere conseguenze piuttosto gravi, invece insomma alla fine non è accaduto per fortuna nulla. No, ma signora è vero che stava sulle strisce, ma non doveva attraversare la strisce. No, ma lui lo ha detto in maniera sarcastica e ironica. Torno da Carmela, perché adesso, Carmela dici, le prossime corse, i prossimi impegni saranno a breve per te? Oddio, tra un mese più o meno. Come è tutto questo tempo? Ci sono poche corse? Perché c'è, allora, domenica, Cittiglio, solo che è una gara World Tour, solo che la nostra squadra non è stata invitata perché non ha punti UCI. Non ha il diritto che hanno le World Tour in qualche modo. Sì, comunque essendo... Però evidentemente sono state dirottate da altri team, può capitare. Essendo nuova, non avendo punti, quindi non ci hanno invitato. Forza per fare i punti e sbrigati, per fare i punti, impegnatevi. Sì, poi ci saranno gare open, verso giugno, luglio. Ecco, prima Maurizio parlava del fatto che insomma un corridovere deve avere anche un orizzonte più lontano perché dopo la vita agonistica deve... Ecco, tu come vedi il tuo futuro dopo il ciclismo? Allora, questo comunque devo ancora... Stai studiando? No. Però hai intenzione di riprendere i libri? Sì, di comunque continuare grafica pubblicitaria anche comunque... Quindi il mondo della pubblicità e della comunicazione ti interessa quel settore lì. E quindi però almeno per quanti anni ancora secondo te potrai correre se la voglia ti assiste ancora ovviamente? No, a parte la voglia, comunque vedo anche se vado bene, se no mi so dire basta da sola e che sto perdendo... Ti alleni sempre ogni giorno da sola con le compagne? No, mi alleno tutti i giorni comunque da sola quando devo fare dei lavori in gruppo, quando devo fare uscite più lunghe. Però sì, io l'impegno ce lo metto tutti i giorni, tanto sacrificio comunque. Antonio, a proposito di sacrificio, il corridore deve ovviamente in qualche modo rinunciare a qualcosa, no? Questo fatto ci si pensa? Pesa a volte? Indubbiamente pesa, pesa perché i sacrifici come si sa sono tanti, soprattutto per la vita di un ragazzo, vede la vita dei suoi compagni, ti lascia pensare, però se chiedere i sacrifici ci sono i risultati, viene tutto ben compensato. Hai parlato così? Hai parlato dei tuoi compagni, ci sono dei volti nuovi, anzi più di uno, no? Perché quest'anno la squadra della GM Europovini è abbastanza rinnovata, no? Come ti stai trovando con questi nuovi compagni? La squadra è ben amalgamata, il gruppo c'è, si vede anche dei risultati che stanno arrivando, la squadra è quasi tutta nuova, cominciando i veterani siamo come diciamo noi squadronsi. Intanto tu sei l'unico abruzzese proprio come... Sì, l'unico abruzzese. Anagraficamente? Anagraficamente sì, poi c'è anche Andrea Ruscetta che vive in Abruzzo, però viene anagraficamente molisano. Molisa, perfetto. Poi niente, il resto sono tutti di fuori. Il danese come va? Sebastian ha cominciato la stagione con qualche problemino fisico perché ha avuto dei malanni tipo febbre, bronchite. Adesso si sta riprendendo già in Croazia, ha fatto vedere le sue doti di ottimo passista, aiutando la squadra anche nel finale di corsa. Speriamo bene perché è un ottimo corridore. Ma in Francia che cosa ti è successo di preciso? Sei caduto, hai avuto in gente meccanico? No, no, in Francia abbiamo fatto due corse, il Tour della Provence e la classica di Ottobar. Sì, sono le due, Ottobar in partito. Sì, ma la prima tappa del Tour della Provence, dopo la prima salita, eravamo rimasti un gruppettino di 40-50 corridori avanti, come classico della Francia e il vento, si cominciarono ad aprire i ventagli. Stavamo praticamente aperti a ventaglio, il mio compagno di squadra, Pacchiardo, ha preso lo spartitraffico perché non l'ha visto. Quando ci siamo aperti a ventaglio, io mi sono ritrovato sulla bicicletta davanti e sto andando a finire contro un muro. Niente di preoccupante? No, niente di preoccupante, sono riuscito a finire la tappa, ma ho finito anche il giro. Gli acciacchi sono stati tanti, però la febbre, l'infezione delle ferite, però per fortuna è tutto passato, adesso pensiamo alle prossime cose. Hai sentito? Si andava a sbattere in faccia al muro, ripreso la bicicletta e finita la tappa. In qualche altro sport nessuno li tocca e stanno 10 minuti per terra. No, no, in qualche altro sport si cade prima. Appunto, nessuno li tocca, cadono i 10 minuti per terra. E poi dopo 30 secondi rialzarsi e fattendo di nulla. Esatto, soprattutto se magari chi deve fischiare non ha fischiato, lui ci si rialza su. Va bene, questa è sempre una piccola nota. Una piccola nota, quando abbiamo detto quale sport, può essere pure il cricket. Il cricket, esatto, sì. Antonio, dicevamo, allora, prossimo appuntamento importante per il vostro team è la Coppia e Battaglia. Sì, settimana internazionale. Settimana internazionale. Intanto ti vedrai beatamente sabato alla Sanremo. Sì. Per chi farà il tifo? Il tifo per me i favoriti sono sicuramente Fernando Gavirio, Peter Sagan, ma io ci metterei anche Edward Boston Hagen. Ottimo finisher. Poi, come tutti gli anni, la Sanremo è un imprevisto. Un'incognita. Un'incognita. Sì. Ho capito. Tornando invece al vostro team, che come hai ricordato è profondamente rinnovato, ci sono tanti volti nuovi, non c'è più Pippo Fortini che era un po' il punto di riferimento, soprattutto proprio per le volate. Per le volate, sì. Adesso siete un po' più assortiti o comunque ci sono più capitani? Come funziona? C'è una certa giracchia comunque. Io quest'anno vedo una squadra molto più completa su tutti i fronti, soprattutto sul fronte delle corse a tappe, dove ci siamo vari corridori che possiamo ben figurare. Mi ci metto anche me stesso, poi con Davide, Pacchiardo, Antonino Palinello. Voglio salutare Marco Tizze, che rientrerà la coppia e battere dopo l'incidente. Sì, pure Marco, si, l'abbraccio dopo l'incidente alla Caligola. Sì, lui ha avuto una brutta caduta, la prima corsa di apertura della stagione a Donorati. Insomma, per voi ci sono stati diversi intoppi come squadra, diverse cadute, non è semplice. Ma ti posso dire che anche sul piano delle volate, secondo me, siamo ben coperti, perché già domenica abbiamo scoperto un ottimo Matteo Rotondi, che si è riuscito a pensare una volata di gruppo, ma secondo me è una persona che ancora deve uscire e uscirà. A breve sarà Sebastian Lander, che secondo me ci regalerà belle vittorie. Perfetto, Maurizio. Noi da Bruzzesi ci auguriamo che esca fuori di Sandro. Ah, di Sandro, beh certo. Speriamo, speriamo. Perché l'anno scorso, su finali stagione andava, anzi, peccato che poi la squadra non ha potuto continuare la stagione, perché sono mancati gli inviti, ma lui andava veramente bene. Sì, ma io infatti aspetto la seconda parte di stagione, l'inizio di stagione un po' per prepararmi. Già io punto dalle corse da maggio, giugno, luglio, agosto. Aspetto soprattutto il trofeo Matteotti, una dalle corse più leate. Eh beh certo, per voi è la Milano Sanremo. È un mondiale, un mondiale. Perfetto, torniamo alla Tirreno Adriatico, perché a proposito di Milano Sanremo, ma anche del Giro d'Italia, abbiamo intercettato proprio ieri a San Benedetto Mauro Vegni, a cui abbiamo fatto diverse domande, ve ne proponiamo alcune, partendo proprio dalla Sanremo e poi anche una puntatina, come è ovvio, che fosse al Giro d'Italia, che come sapete tornerà in Abruzzo domenica 14 maggio con la tappa del Blockhouse. Sentiamo Mauro Vegni. La Sanremo è rimasta credo oramai l'unica gara monumento, world tour, con possibilità per le ruote veloci di potersi aggiudicare un grande evento ed è il motivo per il quale poi tutto sommato abbiamo deciso di mantenere il percorso classico. È chiaro che tutti quelli che hanno ambizioni saranno presenti alla partenza. Favoriti ce ne sono tantissimi, molti di questi erano qui alla Tirreno. Spera in un italiano, anche se è un po' difficile, l'ultimo nel 2006, pozzato, tanto tempo è passato. No, assolutamente, chiaramente speriamo tutti in un italiano, anche se come dicevamo, anche qui alla Tirreno c'erano sicuramente dei protagonisti in chiave Sanremo molto importanti, da Gaviri a Sagan, altri. Poi fortunatamente la Sanremo è una lotteria, quindi magari tutti ti aspetti e ti esce il corridore diverso che non immaginavi. Per cui è bello anche questo, il fascino della Sanremo. Domenica 14 maggio, per noi abruzzesi è una data da segnare con il classico circoletto rosso perché la Corsa Rosa, il Giro d'Italia, quello del Centenario, torna in Abruzzo. Sicuramente è il primo weekend dove cominceranno a delinearsi perché saremo già verso la nona tappa e cominceranno a delinearsi un po' i ruoli in questo Giro d'Italia. È un arrivo abbastanza importante, difficile e sicuramente ci aspettiamo tantissima gente come è sempre stato su queste terre. Non si saprà chi vincerà ma sicuramente si potrà dire chi non potrà partecipare alla festa finale. Queste dunque le parole di Mauro Vegni. Prima di parlare un pochettino anche del Giro d'Italia che tornerà in Abruzzo domenica 14 di maggio con la tappa del bloccasso, forse la prima vera salita. C'è sì l'Etna nella quinta tappa se non ricordo male, però è la prima vera salita anche perché... Questa non è la prima vera salita, questa è la salita. È la salita. Che nessuno si rende ancora conto. Non è l'unica però. No, io ho detto sempre che rispetto alle altre tappe alpine, è normale che i tappapini hanno 3, 4, 5 salite, però la durezza di questa salita non è paracolabile con le altre. Poi ne parleremo un momentino perché abbiamo anche l'altimetria che abbiamo peraltro già visto, però volevo chiederti, tornando invece alla Sanremo, Maurizio, il tuo super favorito qual è? Sicuramente è Sagan il mio favorito, però come ha detto prima Antonio, no, ci stanno anche gli altri e non dimentichiamo Christoph Degenbolt, cade lui o anzi che va veramente forte e se la squadra lo accompagna è uno che potrebbe dare fastidio. Gli italiani zero, niente. Ma gli italiani l'unico può essere Colbrelli che è andato forte a Parigi inizio, potrebbe essere Bonifazio che pure lui si è dato da fare, Felline se non ha problemi di sorta e poi bisogna capire il campione italiano che ha avuto dei problemi in inizio stagione, la condizione se farà o meno la Sanremo. E invece il favorito o i favoriti di Carmela? Beh, se ne devo dire uno, ok, Peter Sagan. Sagan o Sagan, insomma. Giro d'Italia, giro d'Italia, rivediamo questa altimetria, partirà dal Molise, Montenegro di Bisaccio, una tappa corta, nervosa, però gli ultimi quanti chilometri? 20? Sono 28 chilometri. Ecco qui l'altimetria. La corsa non è più di 139, ma è di 151. Ah, quindi? Se vuoi ti faccio anche la cronistoria. 151 chilometri. Sì, sì, ci sono, va bene. Novità ci sono sempre. Sì, no, perché questa gara non doveva partire da Montenegro di Bisaccio, ma da un altro posto del Molise. Poi è saltata questa sede, Mauro Venni mi ha chiesto, cerca di trovare un'altra alternativa, con degli amici che ho a Montenegro, ho fortunatamente trovato la loro disponibilità, e c'è stata questa partenza da Montenegro, che sono felicissimo. Anzi, mi scuso pure con l'avvocato Teresio Di Pietro, che oggi mi ha chiamato un paio di volte, non mi ha risposto, speriamo che ci sentano anche da Montenegro e ci vedano a Montenegro. Niente, come dicevo, ci sono stati questi 11 chilometri che erano previsti da me quando io proposi la tappa, però non fu preso in considerazione, perché come tutti sapete il Giro d'Italia, il Tour de France o la Vuelta non possono superare un determinato chilometraggio. Poi cos'è successo? Che nel corso dei mesi alcune tappe in Sardegna sono state accorciate, è stata accorciata anche una tappa in Sicilia, e sono stati recuperati dei chilometri. Siccome nella zona di Manoppello c'è il Volto Santo di Gesù, che è un santuario forte per il cattoliceso, per il cristianesimo, e nel 2006 doveva ospitare la riva di Tappa, proprio nel santuario. Quando fu fatto il sopralluogo, poi si scelse Passo Lanciano, e da lì iniziata la mia avventura, appunto per portare un ricordo a questo santuario, è stata scelta questa deviazione, ma anche perché per portare il gruppo non in forma compatta, ma sgranato, perché salendo a Manoppello, poi andando verso l'elettro Manoppello e scendere di nuovo a scapa, ci saranno sicuramente degli strapponi, delle situazioni, che potranno portare il gruppo a spezzestarsi e iniziare la salita in un altro modo. Vogliamo ricordare un po' anche le difficoltà, proprio le pendenze? Diciamo che la difficoltà di questa tappa inizia salendo a Chieti, salendo a Chieti, perché ci sarà la prima asperità a Chieti di complessivamente, dal punto d'attacco, ad arrivare alla sommità, saranno 6-7 chilometri, anche se ci sono dei piccolissimi trattivi di scese. Poi la particolarità inizierà a scapa, con la salita fino al bivio di Abbateggio, che sono 8 chilometri al 6,5%, poi ci saranno 3 chilometri e mezzo dal bivio di Abbateggio, che ci porterà al centro abitato di Roccamorice e da lì inizierà la salita vera e propria. All'inizio sarà una salita dolce al 3-4%, arrivata al bivio di Santo Spirito all'Eremo, lì inizieranno i dolori, perché ci saranno 14 chilometri e mezzo con una pendenza media del 9,8%. E là non potrà vincere sicuramente un corridore di secondo piano, ma vincerà un corridore di primissimo piano. E come hai sentito, credo ha detto Vegni, magari non si saprà chi potrà vincere il Giro d'Italia, ma sicuramente chi non potrà vincere, in qualche modo, che distacchi ci sarà. Nel 2006 a Passo Lanciano vinse Basso, che poi vinse anche il Giro d'Italia. Io mi auguro che il vincitore del blockhouse del 14 maggio sia anche il vincitore del Giro d'Italia. Antonio e Carmela, quelle strade, quelle salite, le conoscete? Io non tanto, perché sono parecchio distanti da casa mia. Sono distante. Ogni intanto l'ho fatto, Passo Lanciano, quando mi trovo in ritiro con la squadra, ma non è che la salita la conosco benissimo, cioè non fa parte del resto del allenamento. No, no, io la conosco abbastanza. La conosci bene, pure proprio, diciamo, anche quella da quel versante a cui si riferiva prima Fornichetti, Norizio. Sì, l'ho fatto, sì, abbastanza, abbastanza, è dura, è dura. È dura, quindi, insomma, sicuramente sarà, sarà spettacolo, sarà, però deve rispondere anche la gente di Abruzzo, rispondere a Morizio. Guarda, io ti posso dire che gli alberghi a Passo Lanciano sono tutti prenotati e infatti abbiamo avuto difficoltà per quando conosciuto. Quanti alberghi ci sono? Beh, Mamma Rosa è pieno, il panorama è pieno, lo scoiatto, lo scoiatto, il, quello che sta a metà salita, aiutami tu. Eh, lo scoiatto. No, lo scoiatto, quello dopo, il senore è pieno, la maielletta è pieno, sono tutti gli alberghi pieni, compresi, compresi il versante di Roccamone dove ci sono dei breakfast che sono ultra pieni e prenotati. Poi, se vogliamo tornare sempre sul discorso dell'esclusione della Nippo Fantini, sì, gli abruzzesi sono adirati per questa esclusione, però adesso la squadra sta svolgendo un altro programma che dovremmo fare bene nel 2017. Voi farete anche la Sanremo? Sì, faremo tutte le corse. Per la prima volta la Sanremo? No. Sì, la prima volta che la facciamo. Esatto, la prima volta. Perché le altre volte invitati al Giro d'Italia siamo stati penalizzati all'inizio stagione, quest'anno non facendo il Giro d'Italia stiamo facendo tutte le corse per RCS. Quindi avete fatto la corsa a tappe della Tirreno? Da Bugabi, Tirreno, Sanremo, poi faremo il finale di stagione. Niente male anche se manca. No, non è niente male, anche perché poi da un punto di vista così sportivo-sponsorizzativo in mancanza del Giro d'Italia la squadra parteciperà al Giro del Giappone che per noi come squadra per lo sponsor giapponese Nippo è il non plus ultra. Tant'è che l'altra la squadra principale è più forte. Tanti giapponesi che avete in squadra? Due ne avete? No, abbiamo sei giapponesi e per un accordo su ogni corsa importante che si farà qua in Europa tre corridori devono essere della nazionalità giapponese. Abbiamo qualche problema con Cuneco che rientrerà purtroppo a maggio ma soprattutto c'è stata un attimo di defaianza da parte di Arredondo che alla tappa del terminino appena inizia della sede si è fermato e ancora non riesco a capire nel perché e nel per come. In squadra c'è stata un po' di tensione speriamo che il corridore è con gli otto della Tirreno Adriatico. Torno da Carmela Carmela tu che cosa ti aspetti da questa stagione a livello qualsiasi livello di risultati di fortuna quindi partecipazione per esempio al Giro d'Italia da parte tua la tua squadra ci parteciperà abbiamo detto. Sì, quello è sicuro. Cosa ti aspetti? Comunque crescere migliorare fare meglio dell'anno precedente e fare qualche risultato in più che sicuramente aiuta cioè ripaga i sacrifici e gli sforzi top ten ma anche qualche podio perché no? Sì, magari. Antonio la stessa domanda per te una stagione per te la numero? La numero 3 La numero 3 Per me la stagione posso dire che è già cominciata bene molto meglio di come mi aspettavo perché la condizione fisica è già abbastanza buona qualche piccolo incidente che sono incidenti di percorso che fanno partire maestriare però se ne ci fossero sarebbe meglio Ti dico che è cominciata bene perché già dalla iguaglia quando ho preso la fuga non pensavo che riuscissi ad andare a tenerla così al lungo perché di solito si sa come si corre in mezzo ai professionisti cioè va via la fuga lasciano andare via la fuga ma lì è stata una corsa un pochettino tutta anomola è andata via la fuga il gruppo non ha lasciato niente noi andavamo sempre più forte per per guadagnare sul gruppo e già lì ho capito che la condizione c'era quindi per quest'anno mi aspetto grandi cose però dirlo adesso ancora è presto perché io mi sono prefissato la mia stagione per la seconda parte adesso tutto quello che viene non di più Quando si dice una stagione i vostri dirigenti soprattutto il padron Gabriele Marchesani credo che vi faccia che salutiamo ovviamente vi faccia in qualche modo un discorso così iniziale augurale che cosa vi ha detto? Il nostro presidente Gabriele come sempre lui tiene molto l'immagine della squadra e si può ben vedere e niente lui come tutti gli anni non è che ci impone le cose lui ci dice semplicemente di fare il nostro meglio tutto quello che viene è un di più Quindi non impone dei risultati impone io posso dire che la squadra c'è molta tranquillità il farvi in qualche modo vedere notare movimentare le corse certamente nella nostra squadra andare all'attacco e poi con i nostri attacchi si riesce a ottenere qualcosa di più come si dice sempre la migliore difesa è l'attacco infatti noi partiamo sempre attaccando avevi detto prima tanti volti nuovi squadra hai legato già con la maggior parte li conoscevi li conoscevo tutti quanti già perché appunto è il terzo anno e quindi sono già tre anni che stavo in gruppo con loro a parte Sebastian che non avevo mai visto in gruppo lui proveniva dalla BMC quindi faceva quasi sempre un altro calendario però mi sono legato molto con lui perché è un ottimo ragazzo valido e niente sono rimasti i vostri direttori sportivi eh sì i nostri direttori sportivi sono rimasti tutte e tre no perché c'è ah no è andato via Andriotto Andriotto sono rimasti Dimitri Di Candrov e Alessandro Donati i due direttori sportivi che sono con noi sin dal primo anno quando è andata la squadra e due ottimi direttori sportivi e niente il feeling adesso Andriotto lavora per il CS ha sempre lavorato per il CS però è tornato è tornato lì a lavorare come allora abbiamo ancora 7-8 minuti io ho un altro servizio da farvi vedere così chiudiamo definitivamente l'argomento tirreno adriatico proprio che racconta un po' almeno ci prova anche con la voce dei protagonisti proprio l'ultima tappa è il trionfo la tappa la cronometro di San Benedetto del Tronto è il trionfo del colombiano Quintana vediamo festa colombiana la 52esima edizione della Corsa dei Due Mari con la vittoria di Nairo Quintana che nella cronometro conclusiva di San Benedetto del Tronto ha difeso a denti stretti la maglia azzurra dagli attacchi del francese Pinot e dell'australiano Dennis specialista nelle gare contro il tempo quest'ultimo si è consolato con il successo di tappa e con il secondo posto nella generale soffiato proprio a Pinot top 10 quasi tutta straniera primo degli italiani Domenico Pozzovivo che ha chiuso al decimo posto per il 27enne colombiano si tratta del bis dopo il successo di due anni fa anche stavolta il giorno chiave è stato il trionfo sulla salita del Terminillo ed ora spazio ad alcuni protagonisti a cominciare dal vincitore era una grande festa colombiana per te per il tuo popolo una dedica è stato tutto molto bello la vittoria di oggi mi ha reso molto felice ed è una gioia da condividere con tutti i tifosi anche quelli italiani che mi hanno sostenuto da segnalare il clamoroso incidente rischiato da Peter Sagan l'iridato durante la sua prova è stato costretto ad una escursione fuori carreggiata perché una persona con il cane gli ha attraversato davanti lui ci scherza su per fortuna non è successo niente poi io ero contromano lei sulle strisce pedonali e aveva ragione lei poi io avevo fortuna che non ci non ci siamo incontrati nelle parole di Mauro Vegni la soddisfazione della RCS organizzatrice della corsa il parterre di partenza è un parterre di tutto rispetto degno dei grandi giri la corsa poi quest'anno è stata come dire corsa nella maniera giusta anche dagli atleti per cui c'è stato grandissimo spettacolo poi c'è questa novità se novità si vuole chiamare ma non lo è di fatto dell'esplosione di questi atleti colombiani che oramai vincono su tutti i campi gioia doppia infine per Davide Ballerini alla sua prima tirreno è unico italiano a portarsi a casa qualcosa la maglia verde degli scalatori è la prima volta che la faccio è una grandissima emozione e spero di farla molte altre volte è riuscito a tenerla stretta questa maglia e sono molto contento c'è una dedica per questa maglia ma in particolar modo va alla squadra tutti quelli che mi sostengono alla ragazza e alla famiglia e questo era appunto il nostro contributo per l'ultima tappa della Tirreno Adriatico di San Benedetto del Tronto la cronometro individuale prima di concludere perché ormai siamo in dirittura d'arrivo volevo intanto non l'ho detto però in sovrimpressione trovate un indirizzo mail bello pedalare tutto attaccato minuscolo chiocciola rete 8.it dove potete scriverci se lo vorrete segnalandoci le corse dandoci qualche consiglio perché no anche qualche segnalateci anche qualche qualche critica intanto avete già scritto per esempio domenica scorsa c'è stato a Torrevecchia il trofeo Bike Pro Cantina Sincarpa trofeo di cross country e c'è stato un vero e proprio pienone di bikers abbiamo anche alcune fotografie da mostrarvi eccole qui gentilmente concesse da Bruno Di Fabio sono stati oltre 160 complessivamente i protagonisti della corsa la sfida si è sviluppata lungo un circuito di 6 chilometri e mezzo 5 i giri previsti disegnato proprio tra le colline di Torrevecchia Maurizio tu hai disegnato questo circuito per caso no non l'ho disegnato perché non mi occupo tanto di montare perché siamo vi do anche il podio assoluto quello maschile Alessandro Valente Vittoria Racing Francesco Venditti Bevilacqua Sport Cerrano Outdoor stessa squadra per il terzo classificato Paolo Fragassi a livello femminile si sono espressi ad ottimi livelli Mariangela Roncacci pedale apriliano prima tra le master donne Sara Grifi Royal Bike prima donna nella categoria open Sara Rossi club ciclistico corridogna prima donna tra le juniores altra segnalazione su questo indirizzo di posta elettronica riguarda la gara che ci sarà il primo maggio Gran Fondo Maiella Tour il comitato organizzatore che si chiama Fuorisoglia Cyclist ha organizzato un doppio percorso quello medio di 106 km e quello più lungo di 137 partenza e arrivo sono fissati a tocco da Casauria le partenze scusate le iscrizioni sono già aperte fino al giorno della gara naturalmente viene premiata la velocità perché chi si iscrive prima ha anche uno sconto sulla quota di iscrizione per gli atleti diversamente abili l'iscrizione è gratuita Maurizio prima di tornare anzi torno da te torno da te perché domenica si è corso a Monteriggioni in Toscana e una gara di mountain bike internazionale e se vedi chi è anche corso cade l'Evans a 31esimo posto perfetto lui è campione non so se abbiamo delle ultime fotografie da farvi vedere relative proprio al questa è la situazione attuale a ieri tornando al giro d'Italia la salita di Roccamorice io mi auguro che oggi da oggi mancano 60 giorni c'è neve tanta 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 sono due metri e mezzo di neve quella è la strada praticamente non esiste tant'è che oggi dovevano venire a fare il sopralluogo dei corridori della BMC e dei corridori di Skylanda e poi li ho fatti desistere perché questa è la situazione attropa e speriamo davvero che oltre che dal punto di vista climatico si possa fare qualcosa guarda Paolo io sto cercando in tutte le maniere di di cominciare a far capire di premere no perché di premere per cominciare a far pulire la strada perché ripeto è una salita che dal manto stradale rispetto a quella di pretoro è abbastanza siamo davvero in chiusura altrimenti che cosa potrebbe succedere se deve cambiare percorso all'ultimo istante potrebbe anche cadere se la strada speriamo di no speriamo di no che faremo che non è un risultato di una figura di un livello organizzato successo grazie a Maurizio formichetti gli ultimi due flash se volete ringraziare qualcuno Antonio Di Sante ringrazio voi per l'invito eh no vabbè vabbè chi ringrazio ok bocca al lupo a tua ragazza per tu grazie a ragazza si grazie a ragazzo Carmela Cipriani grazie Antonio Carmela Cipriani Conceria Zabri Pro Cycling Team ringrazio la squadra e voi che mi avete invitato allora io intanto ringrazio gli ospiti di questa sera ringrazio Max Pacilio in regia questa trasmissione bello pedalare tornerà mercoledì prossimo sempre in diretta a partire dalle ore 22 a risentirci e buona serata grazie a tutti sarà da sale lunga volta sai che si sarò